Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. È finita tra Totti e Lablasi e ora tutti si chiedono quanto dovrà pagare Francesco Ailari Ecco il loro patrimonio.Non è la prima volta che si parla di crisi tra i Lablasi e Francesco Totti. Più volte la coppia è stata sul punto di lasciarsi per alcuni tradimenti ma poi niente il loro matrimonio è proseguito per ban 17 anni Era il 2002 quando Ailari e Francesco si sono incontrati per la prima volta e lui era già il capitano della Roma mentre lei era una valletta di passaparola Ne è passato di tempo quando i due si innamorarono.Entrambi avevano altre frequentazioni ma tra l'amore fu proprio amore a prima vista e Totti appena la vide decise che sarebbe stata lei la donna della sua vita E così è stato i due si sono fidanzati, poi sposati, in diretta TV, e sono diventati genitori Tre i figli che hanno, Christian di 16 anni, Chanel di 15 anni e Isabel di 6 anni Una coppia storica che dopo tanti anni si è detta addio.Ilari e Totti, matrimonio finito Il loro patrimonio è immenso come lo divideranno? Sempre insieme Ilari e Francesco, ad ogni partita della Roma lei era sempre presente per supportarlo Ma la notizia della separazione è arrivato ed ha stupito tutti Era solo lo scorso febbraio quando girava un gossip su Totti e su un possibile tradimento, voce che però i due hanno fortemente smentito Si sono infatti mostrati insieme negli ultimi mesi e anche Ilari ha rilasciato un'intervista a Verissimo dove smentiva qualsiasi rottura Ma questa volta invece è diverso perché entrambi hanno fatto dei comunicati per spiegare senza entrare troppo nel dettaglio la situazione Sia Francesco Totti che Ilari Blasi hanno chiarito che tra loro è finita, dopo 20 anni insieme si dicono addio Ha poi aggiunto di voler mantenere il massimo riservo sulla situazione anche per proteggere i figli ancora tutti minorenni Si sono quindi rivelate più che fondate le voci che già giravano E pare che la fine del matrimonio abbia anche un nome, Noemi Bocchi Proprio con lei sembrerebbe che Totti abbia tradito Ilari presentendola poi come un'amica Ma ora in molti si chiedono quanto dovrà sborsare Totti per le ex moglie Il loro patrimonio è immenso e in parte condiviso, e pare che in questi mesi i due abbiano già concordato per la situazione economica Non solo beni immobiliari ma i due hanno anche molte società che gestiscono Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo Ciao e ci vediamo Ciao e ci vediamo